Il chirurgo traumatologo ortopedico da solo non sarebbe in grado di ottenere ottimi risultati. L'intervento chirurgico è parte di un percorso molto complesso e difficile che però richiede l'intervento multidisciplinare. E se lo dice lui, il primario del centro traumatologico ortopedico di Campo San Piero, c'è da crederci perché i risultati che qui vengono raggiunti sono ottimi davvero in termini di interventi e di recuperi, di capacità e di numeri. Un reparto complesso in cui si trattano tutte le fratture più difficili da operare e non è mai banalmente una questione di sola operazione. Abbiamo trattato quest'anno circa 300 pazienti. È un numero che va considerato con attenzione perché si tratta di interventi particolarmente impegnativi, particolarmente lunghi, che comportano l'utilizzo di enormi risorse. E la collaborazione anche non solo degli ortopedici, ma anche di molti colleghi di altre specialità, vedi gli anestesisti, i radiologi interventisti e poi i chirurghi vascolari e gli urologi, le fratture di bacino, ad esempio, la complicanza più frequente è proprio la lesione dell'apparato urogenitario. E non ultimo i colleghi fisiatri perché la riabilitazione è estremamente importante. Non avremmo ottimi risultati se non ci fosse una riabilitazione eccellente. Un reparto talmente specializzato che funge da polo di riferimento per tutto il Veneto. Riceviamo pazienti un po' da tutta la regione, soprattutto nelle fratture articolari complesse e nelle fratture di bacino e trattiamo questi pazienti, li operiamo e poi generalmente li rinviamo da dove sono venuti. Qui si trattano, come si diceva, tutte le traumatologie e le fratture articolari complesse, le più difficili su cui intervenire, con un punto di forza. Vista l'eccezionalità dei casi, sono le fratture complesse del bacino. Chirurghi in Italia che eseguono più di 20-30 interventi di questo tipo di fratture non sono neanche 20. Questo è uno dei centri che ne esegue di più in tutta Italia e quindi forse questa è la nostra particolare eccezionalità. Richiede uno studio accurato, non solo radiografico convenzionale, ma anche con TAC, con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione. Sempre eseguiamo ricostruzioni tridimensionali per comprendere come meglio eseguire l'intervento chirurgico, quindi uno studio che il giorno prima è indispensabile e poi la durata dell'intervento dipende molto dalla lesione, può andare dalle 3-4 ore anche alle 10-12 ore. A certificare l'eccellenza le statistiche sui recuperi della funzionalità. I nostri risultati dicono che il recupero buono e ottimo si può ottenere nel 92% dei pazienti operati e quindi abbiamo ottenuto sorprendentemente buoni risultati. Questo è dovuto anche alla collaborazione di colleghi, appunto il rapporto multidisciplinare che è fondamentale, colleghi come i chirurghi, gli urologi e soprattutto gli educatori. E al bacino si affianca un altro arto, la mano, che qui storicamente è sempre stata il centro dell'attenzione. A partire dagli anni Ottanta, infatti, il numero di traumi alla mano in questa zona del Veneto è iniziato ad essere elevatissimo per una questione, per così dire, industriale. Legati al gran numero di industrie manifatturiere, di industrie agricole, di industrie artigianali, per cui diciamo che è nata da questa esigenza la chirurgia della mano. Poi con l'andare degli anni, insomma, poi si è anche ampliata, si è ampliata sia dal punto di vista anatomico, nel senso che abbiamo cominciato ad interessarci non solo di mano, ma anche di polso, di gomito e di spalla, e poi si è ampliata anche perché siamo diventati punto di riferimento anche ben oltre il territorio locale del campo sanpierese. E dagli anni Ottanta in poi di strada se ne è fatta tanta. Siamo anche specializzati in alcuni tipi di interventi che eseguiamo solo noi in tutta quest'area, quali ad esempio l'artroscopia di polso, la protesica di polso, che oltre a noi non vede nessun altro centro. E che sarebbero in termini più semplici? L'artroscopia di polso è una tecnica mini-invasiva che permette di penetrare nel polso senza incidere la cute, e quindi una tecnica molto atraumatica e che permette di fare sia la diagnosi di tutta una serie di patologie del polso, che sono difficilmente diagnosticabili senza l'artroscopia, e anche di intervenire chirurgicamente per riparare eventuali lesioni. Poi la protesica, insomma, è come tutte le protesiche, che può essere protesica impiantata su un trauma, ma può essere anche una protesica impiantata, ad esempio, su un polso artrosico, e come tutte le protesiche si tratta di inserire nell'articolazione dei mezzi metallici, plastici, perché ce ne sono di vari tipi, che vanno un po' a ovviare alle carenze legate fondamentalmente al trauma o all'artrosi. E anche qui i numeri parlano chiaro. Noi facciamo più di 1300 interventi all'anno, abbiamo oltre 5000 accessi ambulatoriali, che significa prime visite, visite di controllo, medicazioni, infiltrazioni, ecco, proprio perché serviamo un territorio molto, molto vasto. Un grande centro traumatologico che ha deciso di investire non solo sulle tecniche di intervento, ma anche sulle modalità di assistenza. Qui ci sono 39 posti letto, qui se ne aggiungeranno nei prossimi mesi altri 11. E qui gli infermieri non si suddividono i compiti, ma le persone. Dico sempre ai miei collaboratori che essere infermiere è diverso da fare l'infermiere. Essere infermiere è una cosa che la senti dentro e che ti coinvolge a 360 gradi. Non a caso noi abbiamo un tipo di lavoro che è un po' diverso dagli altri figure professionali. Infatti il lavoro qui non è più per compiti, l'infermiere non lavora più per compiti, ma lavora per moduli. Questo che cosa vuol dire? Un infermiere non parte dall'uno al trenta, per esempio, di posti letto che di una corsia per fare prelevi, un altro infermiere parte per fare medicazioni, ma abbiamo un infermiere che segue principalmente dieci pazienti e che questi pazienti li seguiamo a 360 gradi. Cosa vuol dire? Che lo stesso infermiere conosce molto bene il paziente, che la consideriamo una persona e la seguiamo sia da un punto di vista fisico, psico, psichico e sociale e anche ambientale. Questo perché? Perché noi dobbiamo sapere le condizioni anche ambientali della casa in cui abita il familiare per ottimizzare e personalizzare l'approccio di fisioterapia. E questo che risultati dà? Risultati molto buoni se si lavora in equip. Ognuno qui deve fare il suo, sia per quanto riguarda l'infermiere, per il suo percorso, ma fino anche al fisioterapista che è una figura molto importante e non a caso anche abbiamo in ultimo il case manager. Il case manager, una figura nuova che ha solo qualche mese di vita. Il case manager è una nuova figura che si forma attraverso un percorso di master universitario e ha il compito di gestire tutto il percorso del paziente dall'arrivo fino alla dimissione. Tecnicamente cerco di capire come era prima, cerco di capire com'è il bisogno all'interno della famiglia, cosa hanno bisogno i familiari rispetto al paziente e cerco di coordinare assieme alle varie strutture o ai vari colleghi, come i colleghi infermieri, i fisioterapisti, di gestire un po' praticamente tutto il suo percorso, i suoi bisogni, fino alla dimissione, che può essere la dimissione a domicilio o alla dimissione all'interno di strutture riabilitative che si trovano all'esterno, nel territorio nostro. È una figura nuova e se ne è sentita l'esigenza, perché secondo lei? Perché qui i pazienti hanno bisogno di avere un punto di riferimento, sia all'interno del percorso del ricovero e anche dopo. Nel momento della dimissione, ad esempio, io programmo anche tutti i controlli post e quindi il paziente ha una presa in carico totale e si sente, secondo me, molto più accodito, molto più seguito. Un punto di riferimento unico? Sì, un punto di riferimento unico, non solo per il paziente, ma anche per la famiglia stessa. Un tassello che completa un quadro complesso, complesso, ma efficiente. Così, dice il primario, tranquillizzando quanti sollecitati da chiacchiere voci, avevano pensato o temuto che il CTO non riuscisse a far fronte a tutti i propri impegni, Il CTO ha un impegno gravoso, ha una mission che è diversa, occuparsi della traumatologia. Questo non esclude che le protesi da anca si continuino a fare. Quest'anno ne abbiamo fatte quasi 400, le protesi da anca di ginocchio e di spalla. È uscita una querelle che forse è nata nei tavoli di un bar, oppure per interessi di altra natura, ma l'intervento di protesi è un intervento tutto sommato semplice, standardizzato, che richiede una gestualità ripetitiva legata ai mezzi di sintesi che si impiantano e per questo motivo non richiede una specializzazione particolare come da qualcuno è stato suggerito. La maggior parte dei miei collaboratori sono in grado di eseguire questo intervento ottimamente e anzi abbiamo anche tempi di attesa che si stanno accorciando, visto che stiamo aumentando di numero come traumatologi ortopedici e quindi credo che i cittadini possano stare tranquilli da questo punto di vista. Stiamo parlando di interventi che hanno una difficoltà decisamente inferiore a quelle che normalmente noi affrontiamo. E c'è di più, perché ad un anno e mezzo dalla sua inaugurazione il taglio del nastro è datato 3 luglio 2017. Il CTO si prepara ad un altro battesimo alla presenza del governatore Zaia. Siamo partiti da allora, abbiamo avuto un incremento costante della nostra attività e però adesso c'è un concorso con il quale completeremo la pianta organica e questo ci consentirà di aumentare il numero delle sale operatorie, di aumentare il numero di posti letto e ci aspettiamo di riuscire a realizzare il progetto completo nel giro di qualche mese. Grazie a tutti!